Il PD chiede le dimissioni dei vertici del Lazio, l'azienda per il diritto agli studi universitari e con un presidio dinanzi alla Campomizi, sede degli alloggi e della mensa, ha inteso esprimere solidarietà a 380 studenti che per il partito subiscono disservizi e anche 60 lavoratori della struttura. Le questioni al palo sono tanti. A partire dal nuovo studentato, a ottobre 2022 la Campomizi deve tornare alla difesa. Ad oggi non ci sono atti concreti, dicono se non uno schema tra regione e comune, per una permuta tra l'area dove dovrebbe sorgere il nuovo studentato su Viale Duca degli Abruzzi e via 20 Settembre, area dell'ex casa dello studente. Lazio dal canto suo ha sempre detto di avere soluzioni in tasca, ma non è tutto perché Lazio mette a disposizione solo 80 posti letto nella residenza pubblica e con un bando a scadenza del 31 dicembre, una soluzione che colpisce soprattutto i fragili per il PD. È una richiesta di assunzione di responsabilità rispetto a un'assoluta mancanza di azioni in questi anni rispetto anche ad un lavoro ereditato di pianificazione rispetto alla residenzialità studentesca che aveva come obiettivo quello di trovare soluzioni alternative alla scadenza della convenzione che è arrivata al termine e di cui la gestione ADSU con la complicità delle forze politiche regionali e comunali non ha fatto alcunché. Credo che le dimissioni siano un atto doveroso a questo punto perché è inaccettabile fare la proposta che hanno fatto, cioè di dare la possibilità agli studenti di rispondere a un bando con scadenza il 31 dicembre che assolutamente non si concilia con l'esigenza di uno studente che da fuori sede deve capire come affrontare l'anno scolastico, l'anno universitario in condizioni decenti e soprattutto con delle certezze. È veramente una situazione inaccettabile, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Una gestione insomma assurda per il Partito Democratico che sottolinea anche che nel programma di mandato del Sindaco sono spese soltanto due parole per questo tema mentre il partito aveva fatto un ordine del giorno molto consistente proprio sul tema della residenzialità studentesca. Tra le tante questioni aperte c'è pure il recupero di Casale Marinangelo Accoppito che oggi è inutilizzato.